ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di livelli al 100 per cento di automa chef io sono manu lux e oggi facciamo il paradiso del formaggio come sempre salta la parte del robot carichiamo il mio livello e iniziamo da l'assemblatore di hot dog al formaggio in cui attraverso questo braccio vengono messi tutti i ingredienti dentro qui viene fatto l'hot dog ogni 5 secondi qua viene fatto formaggio con due mixer che deve essere formaggio crattugiato e da qui viene tolto l'hot dog cotto che viene preso da questa griglia tutto viene messo attraverso questo braccio che mette l'hot dog che ci mette il bacon e ci mette la polpetta tutto a tutto a 5 secondi niente di niente di numeri strani poi qui abbiamo il cheeseburger quindi che c'è il burger qui c'ha il sobraccio che mette la polpetta cotta c'ha il braccio c'ha quello che mette il panino e c'ha quello che mette il formaggio triturato per fare la fetta che tutti i miei si trattano attraverso questo braccio infine il bacon che viene tirato fuori dalla griglia da questo che lo mette qui vi è il formaggio che viene fatto a fette via e la patata la patata triturata messa all'interno della friggitrice tirata fuori dalla friggitrice la friggitrice qui a visita normale la patata cinque secondi è tutto qua tutto normale tutto facile facile via semplicemente il distributore dell'hot dog che mette un hot dog un formaggio un panino prodotto che accende il mixer per un mixer per 9 secondi tanto per lasciare il tempo di tagliarlo via questo lettore di ordinazioni che attiva quando c'è una ordinazione sospeso ingratina acceso per il cheeseburger una polpetta un formaggio un panino e il mixer quindi uno di ogni ingrediente per il cheeseburger viene attivato una volta e 20 patatine una patata un formaggio una fetta di bacon e la friggitrice attiva per 17 secondi che il tempo per cucinarsi prima che arrivi qualcos'altro e niente qui è tutto fatto possiamo iniziare il livello questo è il livello in cui c'è il concerto dove quando finisce c'è l'ora di punta in cui tantissimi chiedono hamburger e quindi il cheeseburger è quello più vicino e quello più che ci mette meno tempo a farlo apposta tutto normale non c'è niente tra poco dovrebbe arrivare l'ora di punta certo l'ora di punta iniziata dovremmo iniziare a vedere le ordinazioni eccole qua tantissimi cheeseburger e noi siamo pronti a farli molto velocemente sono anche veloci questi livelli perché neanche ne hanno tanti 30 pietre serviti con tutte queste ordinazioni si fanno velocissimamente quindi è anche molto veloce 11 e 115 usati sui 115 ben lontani dal consumo energetico tanto le dimensioni fatti e niente efficienza al 100% il paradiso del formaggio completato anche questo e ci vediamo al prossimo episodio di livelli al 100 per cento ciao